Cupido è tutto suo. Cupido è un bambino ancora, un cucciolino. Sì, Cupido è un... Un cucciolino, vuole sempre giocare Cupido. Sì. Bello Cupido. Sì, un piccolino. Semba. Rocky. Mannaggia Rocky. Sempre una, pure tu ne hai. Ofelia. Magostina. Ti cercavo stamattina. Ora è comparsa. Lulù. Ciao, Iuri. Lulù. C'è pure mia mamma in linea. Grazie per i complimenti. Ciao, mamma. Traballino. Saluta Merlino. Merlino, di là indietro. Guarda come allatta, Davidone. Bello. Con tutta la forza che c'ha. Quella è la sua mamma, mamma. E che fusa. Bello lui. Chi sei? Traballino. Ciao, Traballino. Tutto a posto, Traballino? Buon pomeriggio anche a voi. Bello. C'è Marcella, pure in linea, Donatella. E Elia, saluta. Ciao a tutte, a tutti quanti. Stiamo approfittando di quest'ultima mezz'oretta di luce, che tra un poco sarà buio. Abbiamo detto prima che fa buio, visto che c'è pure Stefania, mi dà una mano stasera. Fermiamoci, facciamo un video, visto che è tempo per fare foto, non se ne trova. È vero, guardate com'è composto, Merlino. Un principino. Ecco qua, te l'ha rubato. Oggi abbiamo fatto pure fuori un sacco, un sacco, un sacco di pulizie, tanto per cambiare. Tontolone. E quindi abbiamo in sottofondo la lavatrice che va. Che è un piacere, perché abbiamo cambiato là fuori in fondo tutte le casette, tutte le copertine, lavato con la pompa. C'erano un po' di raggi di sole, vedi, già è arrivato il buio. A posto, già sta calando la luce. Andiamo a vedere fuori. Sherry, saluta Sherry. Milk, saluta. Ecco qua, viene il fiorino. Guarda, guarda, guarda se si sta fermo. Già dobbiamo tra un poco riempire i piatti, rifare le lettiere, che già dov'è che hanno finito la pappa? Esclerano, vero? Andiamo fuori, che c'è un po' più di luce. Gastone, ciao Gastone. Come stai, Gastone? Eh, una pettinata Gastone, no? Lulù, Lulù, vieni qua Lulù. Dylan, saluta. Ciao bellezze. Qui c'è Aurora nel centro. Ligna, ciao Aurora, non scappare. Niente, splendore idem. Marcello, ciao. Puntino, è venuto Puntino. È venuta via. Nasina. Ecco qua. Ci facciamo un giretto, poi vi spazzolo, dai. Dobbiamo già rifare tutte le lettiere, malgrado abbiamo finito alle due. Già è tutto da rifare, vero, Monellacci? Perché siete in troppi? Ciao loro! Siete in troppi e distruggete tutto. Però vi volevo fare vedere tutto il lavorone che abbiamo fatto fuori. Ecco, ecco, correte, correte. E qua abbiamo, oltre che pulito tutto qui, abbiamo cambiato là fuori in fondo tutte le copertine, lavato tutte le casette, quelle rosse, verdi. Quindi, insomma, sembra che non c'è lavoro, ma invece il lavoro ce n'è tanto. Ora qui è diventata una bella lettiera pure. Grazie a tutti.